Questa è la coppetta Easy Cup dell'azienda Luma, una coppetta prodotta in Brasile in silicone di grado medicale. La consigliamo per chi ha il flusso molto abbondante in quanto ha una capienza di 36 ml fino i fori e 40 ai bordi. La morbidezza è media. Per darvi un'idea la Yuki Soft è media e anche una Diva Cap è di morbidezza media oppure una Meluna Classique ha una morbidezza media. La tazzina è alta. Infatti questa è una Diva Cap Italia 1 che la tazzina è lunga e anche la Yuki ha una tazzina lunga. Il modello AI offre più capienza perché i fori sono predisposti molto più in alto. La forma come vedrete è cicciottina qua nella base. Che caratteristica? Non ha rilievi. Pertanto quelle donne che a volte avvertono o trovano fastidio con questi tipi di rilievi o il gambo, con questi qua non ce l'hanno. Ma la coppetta ha questo disegno particolare a petali. Sono concavi. In questa parte è più morbido il silicone per cui potete al momento della rimozione afferrare la coppetta da lì per togliere l'effetto sigilo. Trovate inciso all'interno il marchio Luma e anche il modello. Qui potete vedere che il modello è AI. Tutte le coppette Easy Cap che finiscono nella lettera I e sta I per intenso quindi hanno una capienza superiore agli altri modelli che hanno la forma un po più sottile qua nella base.